Musica Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise. Volevo solo dire che la trasmissione Molise a calci andrà in onda domani sera, martedì, a partire dalle ore 21, sempre e solo su Telemolise. Adesso il calcio di Lega Pro. Il Bari si è imposto a Selvapiana ma il Campobasso ha lasciato il campo di casa. A testa alta. Di fronte ad una straordinaria cornice di pubblico, 5.000 gli spettatori presenti a Selvapiana, di cui 500 da Bari, va in scena una partita affascinante che in Molise mancava dal lontano 86. Ben 35 anni. Il Campobasso cede alla capolista per tre reti a uno. Il rammarico di Cudini è legato ad alcune sbavature commesse nel corso della gara e che hanno facilitato la meritata vittoria barese. Cudini conferma la formazione delle ultime settimane. Mignani inserisce dal primo Gigliotti in difesa. Il molisano Antenucci in attacco accompagnato da Chedira e da Botta in cabina di regia. Al quarto Bari già avanti. Calcio di punizione di Botta nel cuore dell'area. Colpo di testa vincente di Terranova. Un po' distratta nella circostanza la difesa rosso-blu. Dopo un minuto dal tiro di Vitali la palla giunge a Rossetti che realizza ma il tutto non vale perché avviene in fuorigioco. Segue una fase in cui la capolista è padrona del campo ed il campo basso cerca di non disunirsi e di avere una reazione. Al diciannovesimo in area si ritaglia uno spazio Botta e bravo Pace a murare il tiro. Ancora i Galletti al ventunesimo con il tiro di Derrico ben parato da Raccichini dopo respinta della difesa di casa. Bella trama rosso-blu al ventottesimo quando Vitali apre benissimo per Rossetti che effettua un assist scacciato via da Terranova. Mezz'ora per il destro di Derrico bloccato a terra da Raccichini. Bari sul taccuino anche al trentaquattresimo quando Botta si inventa un passaggio perché dire che alza troppo la mira. I pugliesi sono padroni del gioco. Il campo basso fa fatica a mettere in difficoltà la retroguardia barese. Succede però al trentasettesimo che Dalmazzi decida di provare la solo. La palla esce ma nemmeno di molto. Campo basso vicino al pareggio. I rosso-blu si rimettono in carreggiata al quarantesimo. La palla è spizzata molto bene da Vitali che finisce per premiare l'inserimento di Tengorang. Affrontato così dal portiere barese Frattali per il signor Feliciani di Teramo. Dopo segnalazione del suo assistente è calcio di rigore e dal dischetto si presenta Rossetti che trasforma con precisione il pareggio e inizia una corsa sfrenata verso la curva nord che esplode letteralmente di gioia. A fine primo tempo è pareggio meritato da parte del campo basso. Al secondo della ripresa con il montaggio di Francesco Di Rienzo, bella trama del campo basso, da Vitali a Bontà il cui sinistro batte fuori non di molto. Nessun cambio nell'intervallo, né per Cudini né tantomeno per Mignani. Al nono occasione gigante per gli ospiti, botta forse, stoppa con un braccio ma è tutto regolare. Mette al centro per il gol fallito da due passi di testa da Chedira. È il preludio al gol, un minuto dopo ospiti avanti. Maita lavora molto bene a sinistra, effettua una finta prima di offrire un cioccolatino al molisano. Montenucci, campo basso 1, Bari 2. Cudini ora va con i due cambi a partire dal sedicesimo dentro Liguori e Parigi. Si rivede proprio l'attaccante al posto di Di Francesco e Vitali. Al diciottesimo protesta il Bari da botta per Derrico che dal fondo mette al centro. I baresi chiedono un braccio galeotto di Fabriani che non viene segnalato dal direttore di gara. Mignani fa entrare bianco per Derrico. Mentre Cudini rivoluziona il suo campo basso dal ventiseisimo. Un altro doppio cambio, Giunta e Van Zand al posto di Tengorang e Pace. Al ventottesimo lo spazio giusto è per Liguori che trova una parata di Frattali sul primo palo. Al trentunesimo il Bari archivia la gara con l'invito di Botta per Chedira che mette a sedere due difensori rosso-blu prima di calciare. A incrociare campo basso 1, Bari 3 nell'occasione pallone perso in uscita da Dalmazzi. Nei baresi dentro Marras e Paponi al posto di Botta e Chedira. Al trentasettesimo è Antenucci a lanciare Marras in profondità. Gran corsa del giocatore ospite che poi trova la respinta di Raccichini. Ultimo cambio di Cudini dentro Magri per Dalmazzi. Il campo basso scompare un po' dal terreno di gioco nel corso della ripresa. Vengono comandati quattro minuti di recupero al terzo dei quali i due neoentrati vanno vicini al poker. Da Paponi a Lollo ed è Raccichini a evitare il gol del 4-1. Finisce con il Bari che si conferma capolista certamente consolidata e proiettata dal derby di mercoledì contro il Foggia. Ma Mignani afferma che è difficile scegliere chi tenere fuori ogni domenica con questo organico. Per Cudini testa il turno infrasettimanale contro la Turris previsto alle 20 di mercoledì. Bodybuilding. Vincenzo Alfano, atleta molisano natural, si è aggiudicato la Coppa di Campione Nazionale Under 24 nella federazione che si è tenuta a livello federale. La gara si è svolta in Giamarina presso il Palacongressi. Adesso il basket femminile. Terza giornata nella massima serie nazionale. Bologna, la Molisana, basket Campobasso 61-70, Faenza, Broni 78-70, Dinamo Sassari, Empoli 84-61, Lucca, Moncalieri 76-59, Ragusa, Costa Masnaga 97-67, Umana, Raiar Venezia, San Martino di Lupari 81-68, Schio, Sesto San Giovanni 86-58. In testa quota 6 troviamo Ragusa, Schio, la Molisana, basket Campobasso e Umana, Raiar Venezia. Quota 4 per Bologna a 2 troviamo il San Martino di Lupari insieme anche a Costa Masnaga, Lucca, Faenza, Sassari, Moncalieri e Sesto San Giovanni chiudono a 0, Broni ed Empoli. Sabato la Molisana Magnoli a Campobasso ha battuto la corrazzata della Virtus Bologna. Ne abbiamo parlato con il coach. Per una realtà giovane come la nostra riuscire a portare a casa una vittoria come questa sicuramente ci dà morale, ci dà stimoli. Restiamo con i piedi per terra perché noi sappiamo che dobbiamo fare sempre grandi prestazioni con tutti per portare a casa le vittorie perché comunque siamo una squadra abbastanza giovane e c'è qualcuna che non ha tanta esperienza. Quindi voglio dire ci prendiamo questa grande vittoria ma rimaniamo con i piedi per terra. Pensiamo a domenica dopo domenica perché l'errore più grande è quello di poter pensare adesso di fare chissà che cosa. Quindi dobbiamo assolutamente goderci questa vittoria e lavorare ancora tanto. Per domenica prossima contro Sassari. Eh sì dovremmo preparare un'altra partita complicata dove ci sono delle straniere che hanno dimostrato di essere di assoluto valore e anche loro hanno avuto qualche problema quindi sicuramente hanno ancora una giocatrice straniera fuori. Sarà complicata perché comunque hanno giocatrici che possono far male, Lucas su tutte. E dovremmo essere brave a preparare la partita non solo su direi perché io quello che avevo detto stasera era cercare di, e che dirò con Sassari, cercare di non limitare, cioè certe giocatrici dove tutti ce li hanno non è come Zandala Sini, come Allen, non si può pensare di non farne segnare. Dobbiamo essere poi brave però a non far entrare in gioco le altre perché a quel punto per noi potrebbe essere più facile. Calcio a 5 e le grafiche. Campionato di Serie A2, girone C, seconda giornata, il Cus Molise ha osservato il turno di riposo ma questi sono i risultati. Benevento, Sala Consilina 2 a 1, Pescara Futsal Nord Ovest 3 a 4, Activity Network Futsal Pomezia 4 a 6, Cisternino Roma Calcio 5, 5 a 3, Lazio Ialpol 6 a 5, Mirafin Tombesi 4 a 4. A punteggio pieno Pomezia e Benevento seguono a 4, Cisternino e Nord Ovest 3 per Ialpol, Lazio Roma, Activity Network un punto per Tombesi e Mirafin a 0, Cus Molise, Sala Consilina e Pescara. Campionato di Serie B, girone G, Bitonto I3 a 0 a 2, Diaz Chaminad 2 a 0, Palo del Colle, Sporting Venafro 1 a 3, Mirto San Michele 4 a 3, Torre Maggiore Castellana 5 a 2, Senise Canosa 3 a 6, ha risposato il Città di Potenza. A quota 6, Torre Maggiore e Canosa, seconda a 3, Itria Castellana, San Michele, Sporting Venafro, Diaz, Palo del Colle e Mirto ad 1, Chaminad e Senise a 0, Città di Potenza e Bitonto. Campionato regionale di Serie C1, partiamo dal raggruppamento A, Caraceno e Sernia Fraterna 5 a 3, da disputare Miranda Sestese, Roccaravindola, Castella del Giudice 5 a 1 e Venafro, Colle al Volturno 3 a 4, riposato il Boiano per una classifica che vede a quota 6, solo il Colle al Volturno, seguono a 4, Roccaravindola, Caraceno a quota 3 invece il Venafro, un punto per Boiano e Castella del Giudice e le altre ferme a 0. Raggruppamento B sempre di C1, Arcadia Termoli, Sporting Campobasso 0 a 8, Larino, Juvenes Termoli 7 a 2, Mafalda, Fuzz al San Severo 0 a 6, Monacilioni, Camerain 5 a 0 e Portocanone San Martino 2 a 15. A quota 6, Sporting Campobasso, San Martino, Fuzz al San Severo 3 per Monacilioni, Camerain, Larino e Juvenes Termoli, tutte le altre ferme a 0. Palla a volo maschile di Serie B, debutto con successo al tie-break per l'Energy Time Spike Devils, che sabato è sordito in cadetteria in casa della Molfetta. Sabato prossimo la prima gara interna a Palavazzieri contro il Turi, con primo servizio alle 18, ingresso gratuito al Palazzetto. Calcio di Serie D. Quinta giornata in Serie di Girona F, Fano, Matese 0 a 1, Fiuggi, Tolentino 1 a 0, Castelnuo, Vomano, Arora, Alto, Casertano 3 a 1, Nereto, San Benettese 1 a 1, Porto d'Ascoli, Notaresco 1 a 1, Recanatese, Pineto 1 a 1, Trastevere, Monte Giorgio 3 a 0, Vastese, Castelfilardo 0 a 1 e Vasto Girardi, Chieti 1 a 1. A quota 12 Trastevere e Fiuggi, seguono a 10, Pineto, Castelnuo, Vomano, Notaresco, Porto d'Ascoli, Recanatese 9 per Tolentino, Castelfilardo 8 punti per Chieti e Matese, a 5 c'è il Fano, a 3 Vastese e Vasto Girardi, 2 per il Nereto, 1 punto San Benettese, Monte Giorgio e Arora Alto, Casertano. Vittoria importante del Matese a Fano. Un punto racimolato nelle ultime due trasferte e nessun punto nella partita casalinga contro il Matese per l'Alma Juventus Fano. I Granata sono stati sconfitti per 1 a 0. La rete della formazione ospite matura nei primissimi minuti di gioco, al quarto. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo spunta la testa di Ricamato che la infila alle spalle di Stafestas. Il Fano ci prova nel corso del primo tempo ad agguantare il pareggio. Al ventiduesimo Casolla conquista palla su errore del Matese, entra in aria ma non riesce a concretizzare. Il centravanti Granata vuole l'angolo, l'arbitro non è dello stesso avviso e lo ammonisce per protesta. Due minuti più tardi, colpo di testa di Vavassori, ma il difensore dell'Alma Juventus non inquadra la porta. Al quarantatresimo, tiro di antezza da fuori area, alto sopra la traversa. Nella ripresa, al decimo, la prima occasione pericolosa, è ancora per i padroni di casa. Tiro di esposito, niente da fare. Gioffre prova a rimescolare le carte, inserendo Gigli, Hulad e Zanolla, al posto di Licaxiu, Del Rosso e Zanni. Ma è il Matese, al ventiduesimo, a farci vedere dalle parti di Zafestas, con alfageme, ma il suo tiro non impensierisce il portiere dell'Alma. Al trentunesimo, un'occasione ghiotta per i Granata. Ancora esposito dalla distanza, del giudice intercetta la palla e la manda in angolo. Altre sostituzioni da entrambe le parti. Esce Manet nelle file del Fano per Pierpaoli. Sorges sostituisce Gualtieri. Per il Matese, Damiano al posto di scacco. Ma il risultato non cambia fino al fischio finale dell'arbitro. Ancora un pareggio per il Vasto Girardi contro il Chieti. Terzo impegno interno per il Vasto Girardi, che cerca la prima vittoria in campionato. Dopo il sonoro KO di Notaresco, al di Tella arriva il Chieti di Mister Lucarelli. Per la cronaca 4.40 si propongono i Teatini con la discesa sulla destra di Di Mino. Il suo cross attraversa l'intera area giallo-blu, con il pallone fuori dalla portata degli attaccanti. Minuto 14, il Vasto Girardi al limite dell'area con Ametai. Posizione favorevole per calciare la sua rasoiata, si perde a lato. 21esimo di nuovo gli Altomolisani, scatto di Ametai, che dribbla anche il portiere. Fermato però in posizione irregolare dall'assistente. 29esimo inizia a prendere le misure anche Guida, che si esprime con un sinistro però da dimenticare. Praticamente una telefonata per il portiere Fusco. 33 di nuovo i locali, con secondo fermato da Bassini. Tutto regolare per il direttore di gara. Il 34esimo è un buon Vasto Girardi che però pecca di precisione. Guida per Alagia, pallone fuori bersaglio. Al 40esimo fallo di Akamadu ai danni di Guadalupe all'altezza della tre quarti. Giallo per il giocatore nero-verde tra le proteste della panchina di Prosperi, che voleva il rosso diretto per il duro intervento. 43esimo, mischia in area ospite. Si coordina Guadalupe. Ottima la mira, c'è bisogno però del riflesso di Fusco. Ultimo sussulto del primo tempo, il piazzato di Sergio Ruggeri. Con l'opposizione della barriera, è 0-0 all'intervallo e con Antonio Di Perna in regia. 2.30 nel corso della ripresa, il terzino del Chieti, Pier Antonio. Interessante il suo traversone. Gioco aereo di Fabrizi, poco preciso nella circostanza. Dodicesimo per la squadra di Lucarelli. Avanza Puglielli di Stasio a tutto il tempo di agguantare la sfera, tuffandosi sulla sua sinistra. 14esimo, corner in favore dei gialloblu. Se ne incarica Guadalupe. Elevazione di Sergio Ruggeri, che però spedisce alto al 19esimo fronte opposto. Pier Antonio dalla destra. Disegna per Fabrizi. Colpo di testa, colmo di potenza e precisione, che vale il vantaggio del Chieti. 24, di nuovo gli abruzzesi. Verna dalla lunga distanza. Si tuffa di Stasio, che accompagna sul fondo. Al 26esimo, invece, Erodi a spingere. Semina panico in area avversaria. Lato corto sinistro. A pochi passi. Cuoio, che però sbatte sulla parte alta del montante. Al 34esimo, si prende la scena il neoentrato Mingiano, che riceve a pochi metri dal dischetto. Se l'alza. E la piazza sul palo lontano, dove Fusco non può arrivare per il punto dell'1-1. Cambia volto la formazione molisana. Michele Guida in solitaria. Pallone sul destro, che non gira a dovere. Finale al Cardiopalma, con l'assalto del Chieti. Contropiede orchestrato da Pierantonio. Sulla corsa, Rodia, a botta sicura. C'è il colpo di Reni di di Stasio. Straordinario l'estremo difensore gialloblu, anche nell'ultimo minuto di recupero, sul colpo di testa sotto misura di Baldè. Pareggio giusto, come dichiarato da entrambi i tecnici, Lucarelli e Prosperi. A margine della gara, il Chieti sale a quota 8. Il Vasto Girardi rimanda l'appuntamento con la prima vittoria in campionato. e domenica farà visita al Tolentino. L'Olimpia agnonese ha vinto in casa della Cliternina. Mostra il passo della vice capolista all'Olimpia agnonese che passa al TSA Stadium della Cliternina, imponentosi per 3-0. La gara è ben giocata dalla squadra di casa che cerca la via del gol nella prima mezz'ora. Qui il primo tiro in porta, al settimo minuto da parte di Fortunato, ma è una telefonata per il portiere Maggi. Siamo al minuto numero 27 con questo tentativo da parte di Orlando che si gira Maggi. E praticamente lì, 35esimo, i primi segni di una buona agnonese che si fa vedere grazie a un rimpallo la conclusione da parte di Picozzi su cui l'esordiente portiere Bruno, tesserato dalla Cliternina, nelle ultime ore agguanta subito la sfera. Il primo vero a fondo però l'Olimpia agnonese trova il gol. L'azione è costruita sulla corsia Mancina da parte di Pistillo e un cross ficcante, quello dell'ex Campobasso. Accompagnano in rete la sfera sia Jallov che Picozzi. Comunque la rete viene assegnata all'ex giocatore del Boiano e c'è il vantaggio per l'Olimpia agnonese. Timbrata al 38esimo, 40esimo, l'italo marocchino Abaci. Ci prova dal limite dell'area di rigore. Buona la sua traiettoria con la sfera che prova a far la barba al palo e si spegne sul fondo, 42esimo. Ancora Cliternina con Orlando che va a recuperare un buon pallone. Prova la conclusione dal limite dell'area di rigore. La parata c'è di Maggi. Finale del primo tempo a beneficio della compagine. Ospite che sfiora addirittura il bis con Antonelli che appoggia all'indietro. Si intromette con E in tuffo. Bruno gli va a negare la gioia del gol. E di conseguenza il bis. Con le immagini montate da Alessandro Nardella siamo nella ripresa. La Criternina cerca con la giusta concentrazione subito di sbloccare il confronto. Dopo due giri di lancette la formazione di casa all'occasione buona con Difortunato che riesce a ritagliarsi uno spazio importante al limite dell'area di rigore. Si allarga, va la conclusione con la sfera che però si spegne sul fondo con un nulla di fatto. Al terzo arriva il gol, quello che spezza praticamente tutti gli equilibri sul rettangolo del gioco. E questa conclusione da una media distanza di Dembélé che trafigge tutti. La palla si alza e poi incredibilmente si abbassa. Tocca la parte sotto la traversa e termina la sua corsa. Infonda il sacco per il gol che praticamente va a chiudere il confronto. Al terzo minuto del secondo tempo la firma dell'italo-francese. Dembélé cerca subito la riscossa alla Criternina con la penetrazione in area di gore di Conec. che però viene fermato esattamente al quarto d'ora, ventitresimo, arriva il trist. L'azione è manovrata sulla corsia Mancina da Gentile che mette in mezzo la sfera. Arriva in corsa sempre lui, Picozzi, che va a scaricare in rete il definitivo 3-0. Con cui l'Olimpia agnonese batte la Criternina. Nel finale cerca di nuovo Gloria la formazione di casa. cercando di spezzare l'equilibrio di nuovo in campo. Ed è Conec che di forza va alla conclusione il suo tiro che però si spegne sul fondo. Vince l'Olimpia agnonese che si impone al TSA Stadium per 3-0. Mantiene l'imbattibilità interna l'Aurora Ururi che ha battuto il sesto campano. L'Ururi squarcia le nuvole che aleggiano sul Fiorilli con il ritorno al successo a spesa del sesto campano per 2-1 con annesso sorpassi in classifica al quarto posto. Dopo una fase iniziale di studio il primo squillo dei padroni di casa è a firma di Di Lullo che si fa largo in aria ma calcia a lato. Al dodicesimo con la Bella ci prova sul calcio piazzato ma Gazzero spedisce in angolo. Al diciassettesimo si vede il sesto campano con Aceti che per due volte sbatte sul burro giallorosso e retto davanti a Silvestri. Al ventitresimo l'occasione più ghiotta per l'Ururi è con Di Lullo lanciato a rete ma è il numero 9 di casa la cestina centrando il palo alla sinistra di Gazzero. Alla mezz'ora però Occhio Nero taglia il campo per l'inserimento di Buono che di testa da due passi insacca l'1-0 giallorosso. Al trentottesimo Ciliberti lancia Sciarrette il quale spara addosso a Gazzero. Sul finire del primo tempo però l'Ururi mette in scena uno schema da manuale su corner. Con la Bella tocca corto per Sciarrette accrostagliato e testa di Alberta per il 2-0 Ururi. Nella ripresa passano solo 5 minuti e il sesto accolcia con Abdeman Samsam che aggancia un lancio dalle retrovie e batte Silvestri da due passi per l'1-2 che riapre il match. Al diciassettesimo l'Ururi si riporta in avanti con Occhio Nero che ci prova da fuori ma Gazzero ha idee diverse. Il sesto prende campo ma punge raramente se non sul calcio da fermo come al trentottesimo con Di Baia che svetta su corner ma manda alle stelle. Nel recupero il tecnico dell'Ururi Pompilio viene allontanato dall'arbitro Calvara di Trento su segnalazione dell'assistente Palumbi di Termoli che ritiene eccessive le proteste del trainer giallorosso. All'ultimo respiro il sesto si riversa tutto nell'area dell'Ururi e la parla del possibile pari capita sui piedi di Antonio Gazzero ma Silvestri sigilla il successo giallorosso con l'Ururi che torna a sorridere davanti al pubblico amico mentre il sesto non può che masticare Amaro. Campionato di promozione Sesta giornata in promozione Don Chessagnone Virtus Gioiese 0 a 4 Trivento Petacciato 1 a 3 Aesernia Fraterna Termoli 3 a 2 Baranello Torre Maggiore 4 a 1 Guardia Alfiera Ripalemosani 1 a 2 Maronea Juvenes 2 a 0 San Pietro in Valle Campomarino 2 a 1 Spinete Turris 2 a 2 16 punti per Virtus Gioiese Petacciato a 15 c'è il Campomarino insieme anche al San Pietro in Valle 13 Turris 12 Ripalemosani a 9 Termoli e Trivento 7 punti per Baranello e Maronea Guardia Alfiera Esernia Fraterna Spinete a quota 4 3 per la Juvenes 2 Torre Maggiore chiude a 1 Idon Chessagnone Ottimo punto dello Spinete contro la Turris Costringe al pari la Turris e conquista un punto d'oro lo Spinete che guadagna terreno in classifica al decimo la Turris si vede con Antonio Caiola che vince un rimpallo la sfera termina a Cacchione che non inquadra la porta sono le prove generali per il gol che arriva 9 minuti dopo punizione di Stefano Caiola, correzione di Tarantino e Cacchione di testa fa 0 a 1 lo Spinete prova a riorganizzarsi ma non riesce a farsi vedere dalle parti di Badanesi anzi alla mezz'ora capitola per la seconda volta ripartenza ospite con Cacchione che rifinisce nello spazio per Tarantino il numero 9 solo davanti a Colardo lo batte per lo 0-2 la sfida sembra essere in discesa per la squadra di Rienzo lo Spinete però non si disunisce e riapre i giochi al quarantesimo lancio dalle retrovie di disisto Ciamarra aggancia la perfezione si coordina e batte Badanesi con un tiro preciso Spinete 1, Turris 2 con questo risultato si va negli spogliatori con le immagini di Marco Pace siamo nella ripresa ripresa che si apre nel segno dei padroni di casa 9 minuti bastano a pace per inventarsi un gol di grandissima qualità il centrocampista gialloverde riceve palla e da distanza siderale insacca la sfera sotto la traversa Spinete 2, Turris 2 minuto 17 si fanno vedere gli ospiti con Tarantino che viene contrastato in aria il direttore di gara lascia correre lo Spinete agisce in contropiede al 38esimo Ciamarra viene fermato da Siena anche in questa circostanza Di Domenico non prende provvedimenti in pieno recupero al 49esimo la Turris va ad un passo dalla terza rete corner di Tarantino inzuccata di Cacchione palla che si stampa sulla traversa sfera a Riduan che non trova la porta per la deviazione decisiva di capitano di Bartolomeo in corner finisce in parità con lo Spinete che si proietta alla sfida esterna sul campo della Juvenes mentre la Turris ospiterà i Donkeys si allunga la serie positiva del Baranello che ha battuto il Torremaggiore Dilaga il Baranello in casa contro il Torremaggiore recuperando altri tre punti che gli permettono di lasciare il fondo classifica all'undicesimo mister Di Chiro trova spazio tra la difesa avversaria ma il suo tiro si stampa sul palo è pronto Di Paolo che insacca alle spalle di Pier Giovanni 1 a 0 al quindicesimo il Torremaggiore è vicinissimo al pareggio con Orsi ma il numero 7 è in fuorigioco Subito dopo Jacobazzi mette in aria a cercare Canistro ma viene anticipato da Manocchio che mette in angolo Corre il diciannovesimo il passaggio rasoterra di Di Paolo per Bisesto si trasforma in una palla goal Baranello 2 Torremaggiore 0 Quasi immediata la risposta dei Dauni che al ventitreesimo accorciano le distanze Canistro sulla bandierina Di Maggio di testa beffa Manocchio Baranello 2 Torremaggiore 1 Calcio da fermo di Zorretti a pescare la testa di Pettolino la palla termina fuori ma è al trentottesimo che assistiamo ad una vera e propria azione da fuoriclasse tiro rasoterra di Di Chiro dai 25 metri Pier Giovanni riesce a toccare la palla ma non a trattenerla che la vede rimbalzare e poi entrare in rete il primo tempo termina così Baranello 3 Torremaggiore 1 si rientra dall'intervallo il calcio di punizione di Zorretti potrebbe essere pericoloso ma Jacobazzi oltre ad essere fuori gioco inquadra il secondo palo al sesto Di Paolo commette fallo in aria sul russo il signor Paolo Izzo della sezione di Isernia assegna il rigore per i pugliesi c'è Orsi sul dischetto ma il suo destro viene intercettato da Manocchio che salva la sua rete e mette in angolo infierisce il Baranello Bisesto si lancia in un assolo dribbla più di un avversario e cala il poker Baranello 4 Torremaggiore 1 ultimo tentativo degli ospiti Criscio dalla bandierina ma Manocchio in volo para e manda tutti sotto la doccia E' tutto per questa edizione del nostro TG Sport Buon pomeriggio